Determinati, minacciosi spavaldi e veloci, due uomini sulla Trentina sono entrati all'ora di cena in una villetta in via Giulini al numero 7 ed hanno sequestrato madre e due figli in tavernetta, piantonati dal cattivo mentre il tecnico lavorava in camera da letto con un frullino a batteria sulla cassaforte trasformando così una normale serata domestica con televisore acceso e pentole sui fornelli nel peggiore degli incubi rapinati e minacciati con un lungo cacciavite alle 7.40 di martedì sera mentre aspettavano il rientro a casa del padre di famiglia i due malviventi sono entrati in casa passando dal retro da una porta finestra socchiusa con loro dentro senza il minimo timore nessuno dei componenti della famiglia si aspettava un assalto allarmato all'ora di cena molta rabbia per quello che è successo perché comunque è una cosa assurda dentro casa sì 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 ma proprio così sequestrati dopo che sono stati scoperti i ladri hanno continuato hanno insistito e ci hanno minacciato quella è la cosa che destabilizza di più la tavernetta della famiglia Pierucci si è trasformata così in una cella con tre persone impaurite e frastornate al suo interno che cercano di capire che cosa sta accadendo nella loro casa attimi concitati tra chiamate di soccorso e tentativi coraggiosi di fermarli e a un certo punto abbiamo sentito dei rumori strani come qualcosa che grattava e a un certo punto abbiamo sentito un rumore ancora più forte di sempre anche un po' metallico poi un attimo ci siamo preoccupati mia madre ha provato ad andare ad aprire la porta e ha sentito qualcuno che la teneva chiusa che non ci voleva far uscire quel momento ci siamo allarmati subito mio fratello ha chiamato subito ha fatto il numero per avvisare le forze dell'ordine io sono riuscito a passare per una via secondaria e quindi salire di sopra in quel momento appena lui mi ha visto lo stesso è corso verso di me ci siamo dati una spallata una botta così lui è scivolato io invece sono andato verso la porta di sotto appunto e mentre stavo provando a schiavare la porta mio fratello aveva sentito tutto questo trambusto ha avuto paura per me ha dato una gran spallata alla porta l'ha sfondata poi lì mi ha trattenuto di fianco a lui mentre questo ladro ci aveva un cacciavite in mano e ci minacciava diceva state giù state giù e sbatteva questo cacciavite contro la ringhiera della porta l'altro di sopra invece l'altro di sopra non l'abbiamo mai visto noi comunque per tutto questo tempo abbiamo sempre sentito sto rumore di questa macchina che stava tagliando la cassaforte portate via dalla cassaforte e da un'altra stanza accanto oggetti di valore certamente ma anche pezzi di vita e ricordi che sono stati raccimolati in una federa da cuscino come nel più classico dei copioni dentro e fuori in meno di 15 minuti dopo pochi istanti che i rapinatori sono usciti da dove sono entrati arriva il padre, questione di secondi e anche lui si sarebbe trovato faccia a faccia con i suoi carnefici poi è routine, arrivano i poliziotti, il racconto, le testimonianze la scientifica che fa il suo lavoro e la ricerca delle immagini l'inventario delle cose perse indagano su quanto è accaduto ora gli agenti del commissariato di Fano e la squadra mobile della questura di Pesaro questo ladro con cui sono venuto a contatto si era molto scoperto ma l'abbiamo visto tutti probabilmente dell'est Europa